Ok, bello a tutti ragazzi, sono Gysius E io sono Alex E oggi siamo su Anticiamolo, ok? Abbiamo superato questa merda La scalata era difficilissima Ed è solo il primo dell'eniquid L'abbiamo fatto senza registrare perché sarebbe stata mezz'ora di video E voglio dire Cos'è? Così è caso Complicati i problemi sono più semplici quando risolvi Una alla volta Quindi riusciremo a finire questo gioco? Nooo Non si sa Cos'è sta merda? Cosa? Why? Non puoi neanche prenderli qua Oh, sei sicuro? No Perché ho una barra letale Quindi che cazzo ti serve? Ah ma questo si apre No, qua non si apre un cazzo Cosa è che si apre? No, questa è quella dove siamo venuti Ah qua ce l'ho porto, non l'ho visto È gigante Ok, torniamo all'inizio dove le porte si aprivano con i raggi laser Beh tutto si è evitato e stanno trasportando un cadavere Aiuto Ok, sono a tempo di questione Ragazzi, quante ce ne sono? Cos'è? Che schifo è? Eh Cosa? Mi scegli una via Ma dove sto quella? Ok Mi scegli una via Infanto non c'è neanche i cubi Ah, schifo Non so Schifo me E siamo in the shit No, no, no Non siamo in the shit Abbiamo tolato qua Ah, dove siamo andati? Posso passare attraverso il pannino? Cioè poi non capiamo se la merda lì nera è un nemico o qualcosa Ok, ok, ok Ce l'abbiamo fatto Questa cosa mi fa molto Ah, questo è una scena solo Wow Beh Ma così qua posso camminare Ah, ci posso camminare Che schifo è Che schifo Sono dal mio amico Ah, non è ciò che Non è l'amico Un bastardo Probabilmente devo prendere dei cubi che non vedo E non sto vedendo No, però siamo usciti a passare Che schifo è Oddio Bello Vabbè, non chiedete come, dove, quando, perché Perché la risposta è Non lo so Non chiedete perché questi cubi si stanno materializzando e rifacendo Ma che tali peggio E non chiedete neanche come fare salire Ah, sì, con il plus Vabbè Usiamo il nostro vecchio metodo che funziona sempre Vai, ce la possiamo fare a finire lo No, cosa che Ah, sono già old Ah, oddio Sono sul soffitto Ma noi Ma noi non ci siamo accorti perché sembravo la parete Infatti, però, va bene Ho perso la cuffia Ok, ho perso, vai Possiamo Possiamo passare Cosa è strana Yeah, vadafacca Ok Sono tornati qua Adesso metterli dentro, anche se non so cosa possa servire Forse forse ce l'ho forse ce l'ho forse ce l'ho No, fanculo No, fanculo Fancubo Sì, ce l'ho, ce l'ho Ah, si è già aperta una Ah, perché li ho tolti tutti Lo facciamo Beh, fancubo la nuova Il nuovo insulto Fancubo Ma va, fancubo Ok, ok, che che Sì, ragazzi Sì, così gli altri mi diranno si risolvono Ah, cazzo Questo qua È il suo cugino No, non è il suo cugino Dove li posso mettere, come? Da qui? Ok Beh Questi si tolgono? Sì, questi No Non si tolgono E quindi facciamo il stesso metodo Di prima Fantastico Che toglie tutti i cubi di mezzo E li manda Affanculo Tutti vogliono Affanculo Affanculo Ricordati Affanculo Ok Tu fai Che cazzo faccio? Il muoio Ah, bello, bello Sì, sì Tu hai servito molto Coddio, ho capito Hai riempito di tutti? No, guarda Cos'è? Vedi sta cosa qua Vedi presi tutti Tutti a parte quelli E posso rifarne di più Guarda Posso farne Ho fatto una costruzione Sopra un'altra Ok ragazzi Non so neanche io Perché lo sto facendo Perfetto Quindi Cos'è questo? Ah, devi metterli lì Ah Oh, non Azzardarti a toccare Nessuna parete Che qua Qua ci rimaniamo Scenti Tanto probabilmente È al centro La parte importante Magari tipo questo coso qua È servito per farmi prendere i cubi Vabbè Possono bastanti Qua Rischiamo di smaterializzare Allora qua Queste fantastiche fissure Serviranno a qualcosa Bello Ah no Tutti intorno Forse No, secondo me devo lasciarli di punto Sì perché l'altra porta Li apri Ce li hai ancora Perché magari qua tipo Ecco qua tipo passi in mezzo E te le smaterializza Per esempio Ah vabbè Ne posso fare quanti voglio Ok Ok ragazzi Ok ragazzi E adesso sei nei guai Merda Tu Cosa che ci hai fatto faticare Assorbilo Guarda si distrugge tutto Non me ne frega Assorbilo Fai qualcosa Sei morto Cosa? Cosa sta? Ci hai tolti Nera? La pistola è nera Raga What? Fai qualcosa Dio cosa sta succedendo? Cosa è successo? Ho un cubo Ho un cubo nero Cos'è sta M... Posso moltiplicarlo? Non posso farlo tanto No Favolo Ragazzi Cos'è questo paradiso? Siamo in paradiso Riprendi qui Ci sa mai che serve a qualcosa Alleluia Alleluia Ah bifio Bifio Pure in bifio Sei privato al palazzo del supremo Cosa sono? Ragazzi Palazzo di dente Chi mi fa imparare la camera? Guarda Destra o sinistra? Sinistra No L'opposto di quello che hai scegliato Allora sinistra Mi sono tornato indietro Cos'è sta Senta No io non mi butto giù Io mi butto Yeee No È il polso della morte profonda Guardalo Oddio Dovevo beccare con la sfera Eccolo qua La strada Provoco un cubo No Ce la fa lui Ce la fa lui ragazzi È atleticissimo Che cos'è Si ha destrato anni e anni Per finire l'anticembre Sto qua Eh sì E per andare in paradiso Finalmente Eh di qua Non mi capisco Oddio I gradini insolientabili I gradini che si chiamano saltare Ragazzi basta Enigmi Voglio finirlo Voglio finirlo Sto cazzo di gioco Fate Wow 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 Basta Fermi Fermi Non devi cadere L'ho evitato L'ho evitato Dove sto andando La sfera La palla nera La palla Ce la fai No Si Si La palla La palla Uii La palla nera Nostra L'abbiamo conquistata Basta Hai fatto anche una crepa Hai fatto Ho fatto una crepa Guarda Oddio Oddio Hai fatto la crepa davvero Non volevo farlo Converda Cos'hai con il scubo grigio Hai fatto la crepa Io ce lo lancio Io ce lo lancio Io ce lo lancio Non c'è niente Stavo dicendo Io ce lo lancio Ce lo lancio Ma che cazzo è Oddio ragazzi Dovevi metterlo lì Ma l'ho fatto Oddio Oddio Stai dentro Stai dentro Ragazzi gli alieni ci stanno invadendo Oddio Ragazzi Oddio Cristalli che si rialzano dal cielo Oddio Spero che sia la fine Lo spero anch'io Io ti riassorbirò Cosa sta facendo Cos'è Sì Mica è il simbolo di un dicembre C'è poco compattato Non ci senti Sì E se lo fa E se lo fa No non è ancora giusto Perché Il simbolo è tipo Tutto intorciato Non è anche Non è una Non è una Non tutti i pezzi Cosa stai facendo Cugo nero Cosa sta facendo No Cugo nero No voglio vedere Spostati Penso inutile Guardate cosa sta Ma si è piegato What L'ha fatto giusto adesso Adesso è giusto Davvero Sì sì È giusto Perché non ha Né un inizio Né una fine Tutto del parente Così confuso E stupendo E stupendo E stupendo No la parte vuota Cosa sta facendo No No Che se stai facendo Cosa No La palla no Ma no ma questo Guardate cosa sta facendo Guardate se guarda il nero Sembra che sia Stai cadendo Oh mio dio Guardiamo il nero Bum Bianco Esplosione totale Ma sono vivo Ditemi che è finito il gioco Sono vivo Sono morto Mamma mia Ma E così L'uomo Alexander Bruce Ti odio Ti odio Ti odio Bene Robina Pure te Pure te Pure te ragazzi Basta Sto scorderando Abbiamo finito E dicendo Siamo felici Ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mettete mi piace Iscrivetevi E noi ci vediamo nel prossimo video Bene ragazzi Avete presente Quando alla mattina Vi svegliate E vi ritrovate Con qualcosa di diverso Ecco Io mi sono ritrovato Con questo tatuaggio Molto swag E mascolino E quindi Non portare via Questo tatuaggio E quindi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.